Arg! Cosa sto scorgendo laggiù? Forse del nuovo content per Fortnite sul canale? Sì però, BlueFoxer, ho capito che sei online. Perché la tua notifica è così invadente nello schermo? Vabbè, un saluto al volpone, visto che dovremmo convivere in questa schermata d'apertura. Ragazzi, cosa è successo oggi e perché sto facendo questo video? Nelle notizie di inizio settimana ci hanno svelato, presto disponibile, la X segnal punto. Aggiungeranno quindi questa sorta di oggetto che ha una mappa al tesoro, dove vediamo proprio la mappa di Fortnite con una X in un punto. Infatti la X segna il punto per illustra l'isola in cerca di bottino con il nuovo oggetto tesoro sepolto. Sarà quindi possibile trovare un tesoro sepolto? Sarà possibile trovare una mappa del tesoro? Forse più giocatori la troveranno e verranno condotti in un unico punto dove dovranno combattere per trovare il tesoro nascosto? Che cosa contiene il tesoro? E come funzionerà? Cerchiamo di capire tutto. Ma prima, ragazzi, vi ricordo di supportarmi nel negozio. Mi raccomando, creatore supportato Ernesto Fiammata. Ogni tanto controllate e rinserite il tag perché, come vedete, spesso i picchi lo toglie in automatico. Se fate un acquisto nello shop con il mio codice creatore, screenate la pagina all'acquisto e taggatemi su Instagram. Perché, in attesa che rimettano i serve con il matchmaking personalizzato, ho pensato di fare una sorta di contest dove regalerò a uno di voi, o una di voi, una mia maglietta leggendaria. Una delle primissime magliette che ho stampato, di cui ne esistono ancora pochi pezzi in casa mia. La regalerò a uno di voi, ovviamente, tra quelli che mi taggeranno su Instagram, supportando Ernesto Fiammata. Se avete visto molto bene la mappa che abbiamo guardato insieme, avrete notato una cosa. La mappa è già marchiata con una X, come se stesse già indicando, da qualche parte, un tesoro. Ora, quello che stiamo vedendo è l'item che ci permetterà di fare questa caccia al tesoro. Quindi è un po' assurdo pensare che ci sia già una X che indichi il tesoro da trovare. Probabilmente quando dropperanno nella mappa questi oggetti, in ogni partita, ci sarà un tesoro generato random, forse in vari punti, forse proprio randomicamente nell'intera mappa, e la X ci indicherà dove trovarlo di volta in volta. Quindi questo oggetto generico si riferirà a una zona generica, o forse al primo punto dove sarà possibile trovare il tesoro. Sa di fatto che questo punto viene indicato come in quest'area, quindi alla destra del vulcano. Ora, proveremo a cercarlo insieme. Ma siccome non voglio fare una cosa banale, oltre a cercarlo, vi voglio spiegare anche come potenzialmente funzionerà tutta questa cosa. Perché sono immerse dai leaks, dalle informazioni interessantissime, riguardo a ciò che dovremmo fare. Ok, quindi, diciamo che da qualche parte, appunto, alla destra del vulcano, dovremo poter trovare una X. Quindi, da quello che ho visto, esiste proprio una X di sassi, di pietruzze, che ci permette di trovare, appunto, il punto indicato dalla mappa. E vi ripeto, penso sia un punto generico, non sia il vero e proprio tesoro come esponerà nella mappa, perché sarebbe assurdo saperlo già. Che tesoro è? Che caccia al tesoro è? Già sappiamo dove andare. Probabilmente non comparirà nessun tesoro lì, semplicemente è un'idea che ci viene data, o forse, appunto, sarà solamente il primo. E credo che sia questo. Sì, ragazzi, guardate, questa è palesemente una X fatta con i sassi. Qui abbiamo due chest, che ovviamente non rappresentano il tesoro, e sotto al masso non c'è fondamentalmente nulla. Potremmo provare a controllare anche con il drone, ma non riusciremo a bucare la terra e, in ogni caso, io qui non vedo assolutamente niente, quindi la vedo un po' dura. Mentre continuiamo a parlarne, facciamoci un rissone a squadre, così facciamo anche un po' di gameplay. Questa modalità riesco a dare stranamente il meglio di me, che è qualcosa appena sopra lo schifo. Comunque, potrebbe essere guardabile. Quindi, ragazzi, parlavamo di leaks e di ciò che hanno trovato nel codice di gioco. Questo tesoro non sarà una cassa che sponerà lì e buona, probabilmente, ma sarà qualcosa di più. Abbiamo già visto nel secondo video che ho fatto nella season, quello dove analizzavamo la mappa, che esistono delle nuove casse del tesoro, che a quanto pare hanno un loot assicurato come leggendario e quindi sono delle cesse, diciamo, super pompate, super OP. Ma volendo arrivare al punto, quello che io credo succederà è che questo tesoro sarà davvero sotterrato e che, appunto, questa mappa che troveremo in partita segnerà di volta in volta un punto diverso. Quindi facciamo un esempio, tu spawni in questa partita, trovi una mappa e la mappa segnerà una volta un punto qui, una volta un punto qui, una volta un punto qui, in maniera totalmente randomica. Chi troverà la mappa all'interno del game sarà condotto a questo punto, quindi ci sarà tipo un mega rissone di gente che vorranno prendere questo tesoro. E questo lo penso per una ragione. Nel codice, per l'appunto, sono stati trovati alcuni oggetti molto interessanti, tra cui una pala. E non solo, ci sono anche, a quanto pare, già dei modelli che indicano ciò che potrebbe essere un cumulo di terra scavabile, o almeno in apparenza. Quindi probabilmente quello che accadrà è che il tesoro spawnerà effettivamente sottoterra e noi dovremo andare lì con una pala che forse troveremo in prossimità o verrà semplicemente estratta dal giocatore randomicamente, perché non penso che tu la vada a cercare nella mappa, sarebbe un po' pallosa come cosa. Penso che andremo quindi a scavare letteralmente il terreno e alla ricerca di questo tesoro sottoterra. Cosa sicuramente molto, molto interessante, perché dopo i vari tipi di loot che hanno messo, quindi abbiamo il lama, abbiamo la provvista dall'alto, abbiamo le semplici casse, questa nuova cassa del tesoro darà sicuramente un tocco in più, una possibilità in più molto interessante, ma bisognerà anche vedere se ne varrà la pena. Perché effettivamente avere un unico tesoro in un'intera mappa, quindi un solo drop che forse potrà essere trovato da un solo giocatore, è qualcosa di davvero assurdo. E se ci pensate, il casino che si creerebbe per trovare questo tesoro significa che o l'hanno messo tanto per, per fare una cosa comunque carina, una cosa di gameplay diversa dal solito, che personalmente apprezzo a prescindere, oppure questo tesoro dovrà valere tantissimo, perché dovrete rischiare davvero molto per conquistarvi. Immaginate quanti player potrebbero trovare la mappa, se fossero dei team, quanti giocatori andrebbero sul tesoro, chi si imboscherebbe per fare delle trappole, insomma ci sarà una vera e propria resta. E mi spiace dirlo, ma trovare solamente delle semplici armi leggendarie, per quanto siano forti, per quanto possano essere più di una, non credo valga la pena di tutta questa fatica. Quindi mi chiedo davvero che cosa ci potrebbe essere in questo tesoro. Se nuove armi strane, oggetti magari mitici e introvabili, come la famosa spada dell'Infinity Blade, che non hanno più rimesso, almeno nelle modalità canoniche. Ehi, qui si stanno già picchiando di senta ragione. Comunque voi che cosa ne pensate? Ci saranno semplici tesori, tipo armi leggendarie, ci saranno delle armi uniche, magari di classe mitica, oppure ci saranno delle cose che premiano i giocatori in un altro modo, come per esempio V-Bucks. Ripperoni. Sarebbe figo trovare, tipo, degli oggetti estetici, o dei V-Bucks, e solo chi trova il tesoro li può conquistare. Lì sì che verrebbe fatta una ricerca folle, di questi diamine di tesori, ma non so se la gente apprezzerebbe troppo. Diciamo che potenzialmente potrebbero dare luogo a qualcosa di davvero sbilanciato, e quindi se la devono pensare molto molto bene. Comunque senza andare per forza a scomodare l'Infinity Blade, si potrebbe pensare anche a delle armi di classe mitica, uniche, con quindi un po' più di danno, che però sono le solite armi del gioco. Non so, un lanciagranate mitico, o cose di questo tipo. Prondo? Perché non posso impugnare... Oi! Non posso impugnare niente! Quanto cazzo è buggata stasera? Raga, guardate, non posso più prendere le armi! Raga, non posso giocare! What? Ma questa mi ammazza! Guarda, non è in mano nulla, non posso neanche picchiarlo. Vediamo dopo l'ennesima morte, se posso... No, ok, io sono buggato, e a quanto pare non posso tipo giocare mai più. Va bene. Nice. Rip. 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 Oh, yes! Mamma mia, che assalto! Ok. L'abbiamo ripulito questo cavoli di fortino. Ok. Ok. E vabbè, dai. 5 kill. La mia parte l'ho fatta, siamo in 20. Ho fatto il ventesimo. Che dire, ragazzi, ci vediamo presto con altri video sul canale, vediamo quando escono sti tesori, e vedremo anche di capire se abbiamo azzeccato o meno quanto si è detto. Un saluto da Air Reimblaze, mi raccomando, supportate Ernesto Fiammata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.